Il più grande arsenale di armi mai sequestrato a Barletta, almeno negli ultimi dieci anni. Mitra, pistole, munizionamenti e silenziatori, ma anche droga e materiale per il confezionamento. È quanto trovato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile all'interno delle abitazioni di due uomini del posto, un cinquantenne e un quarantatreenne, uno incensurato, l'altro pregiudicato e già noto alle forze dell'ordine. Questi, nelle rispettive abitazioni, alla periferia della città, disponevano di un vero arsenale pronto a sparare e anche diversi chilogrammi di droga di varia tipologia di un valore pari ad oltre 15.000 euro. I militari, nella prima perquisizione, hanno rinvenuto tre pistole a salve, una Beretta calibro 7,65, una mitragliatrice leggera con i relativi caricatori, 250 proiettili, nonché mezzo chilo di marijuana, un chilo e mezzo di hashish e oltre 270 dosi di cocaina, oltre a diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Durante la seconda ispezione domiciliare sono state rinvenute due pistole calibro 22,9, un silenziatore, circa 100 cartucce, oltre a bustine e bilancini per impacchettare la droga. I due uomini sono stati arrestati per detenzione illecita di armi da fuoco e di sostanze stupefacenti e portati in due diverse carceri, mentre continuano le indagini degli investigatori per comprendere l'origine delle armi, per chi i due uomini le stavano eventualmente nascondendo e se erano destinate per qualche conflitto armato.